Allora, buon pomeriggio a tutti, io ovviamente saluto tutti i rappresentanti dei media presenti, ringrazio e saluto la mia squadra, perché questa è una presentazione di una squadra, saluto i consiglieri regionali che sono stati eletti con noi all'ultima tornata per la regione del Veneto, quindi Giovanna Negro, quindi Andrea Bassi, quindi Maurizio Conte e Stefano Casali. Qui con me, alla mia sinistra, ci sono l'onorevole Roberto Camò, l'onorevole Emanuele Prataviera, l'onorevole Matteo Baragantini e alla mia destra la senatrice Raffaella Bellotto, la senatrice Emanuele Munerato e la senatrice Patrizia Visinella.